Il diciottesimo anno di questo torneo, noi lo facciamo da almeno otto anni, è sempre vincente, è sempre bello, ogni anno non vediamo l'ora di ricominciare. L'importante è che tutto si svolga correttamente, qual è la cosa più importante? Poi risultato alla fine si vince, si perde, si va bene, magari un po' di tristezza se si perde, però nulla di più. Qualche scaramuccio in campo c'è sempre, ma dopo il triplice fischio termina tutto? Termina tutto, specialmente poi quando ci troviamo fuori, magari anzi è l'opportunità, l'occasione giusta per poter scambiare due chiacchiere, magari bere anche una cosa insieme, questo è sport, deve essere amicizia prima di tutto. Le prime partite sono sempre più emozionanti perché c'è sempre l'adrenalina, anche se è un torneo privato c'è sempre agonismo e quindi ci si mette tutto l'impegno per portare a casa il risultato. Prima di tutto per divertirsi, anche se a volte entra un po' l'agonismo e quindi si esce un po' fuori dalle righe, però fa parte dello sport, fa parte del calcio, però è veramente un'esperienza, sono anni che la facciamo, è bellissimo. Premettendo che noi siamo anche di fuori, non siamo del posto, quindi abbiamo delle spese, però siamo appassionati di calcio e quindi si fa tutto per le proprie passioni.